V'è una celeberrima lettera che Gramsci compone nel carcere a Turi nel 1931 e che indirizza a Tania, la sorella di sua moglie Giulia, nella quale rende conto della propria attività di giornalista e scrive grosso modo in questi termini. Sono sempre stato giornalista libero, che non ha mai dovuto accontentare padroni, ho sempre avuto una sola opinione e non l'ho dovuta barattare per nulla al mondo, non ho mai dovuto vendere la mia penna a qualcuno, dire cose che facessero piacere a qualcuno o che dipendessero dalla volontà di qualcuno. Orbene, con queste parole Gramsci sta di fatto tratteggiando una linea divisoria nettissima fra la propria attività di giornalista libero, che sulla propria carne viva paga le conseguenze della propria indipendenza, e le paga nella forma estrema della carcerazione, e dall'altra parte lo stuolo infinito di giornalisti e pennivendoli che, come dice Gramsci, vendono la loro penna letteralmente a chi gliela paga meglio e a chi si presta dall'alto a dettare loro che cosa dire. Abbiamo dunque una distinzione nettissima fra il compito autentico del giornalista, quale Gramsci ha incarnato con la propria attività da una parte, e il tradimento del giornalismo compiuto oggi più che mai da quanti, seguendo ancora le orme della lettera di Gramsci, vendono la propria penna a chi gliela paga. Ecco, il giornalismo oggi tende esattamente a decadere a questa seconda dimensione, magistralmente criticata, con spietato piglio realistico da Gramsci nel carcere. Il giornalismo vero, Gramsci docet, dovrebbe essere quello che rende noto ciò che il potere, quale che sia, ha interesse a che non divenga noto. Al contrario, oggi il giornalismo, nelle sue forme dominanti, diventa un giornalismo di completamento dei rapporti di forza e dunque di occultamento dei medesimi. In altri termini, il giornalismo oggi tende a fare in modo che non divenga noto ciò che i potenti non hanno interesse a che divenga noto e a far sì che divenga noto ciò che i potenti hanno interesse a che divenga noto. Sicché il giornalismo, nelle sue funzioni espressive principali oggi, seguendo ancora l'insegnamento che traiamo da Gramsci, tende a diventare il completamento superstrutturale ideologico dei reali rapporti di forza. Il giornalismo oggi, come parte dominante all'interno della produzione dei saperi e del quadro simbolico del blocco storico, tende a fare sì che i dominati prestino al proprio consenso ai dominanti. La funzione precipua oggi del giornalismo di completamento del rapporto di forza capitalistico imperante, tende per sua essenza a fare in modo che il sapere di cui si appropriano le masse nazionali popolari sia sempre solo quello che occulta il dominio di classe che esse masse nazionali popolari subiscono e tende altresì a fare in modo che suddette classi nazionali popolari diano sempre di nuovo il proprio consenso a un rapporto di forza asimmetrico che se realmente conoscessero nella sua vera natura, esse dovrebbero non solo non elogiare e non accettare, ma di più dovrebbero brutalmente rovesciare per via della sua ingiustizia intrinseca. Ecco, da questo punto di vista, seguendo l'insegnamento di Gramsci, il giornalismo tende a diventare la parte dominata della classe dominante. I giornalisti nella loro massima parte sono un blocco di individui che non credono in nulla e parlano di tutto e che hanno come obiettivo l'elaborazione di quadri superstrutturali tutti a beneficio dei dominanti e tutti a documento dei dominati. I giornalisti, cioè, sono i pennivendoli che vendono quotidianamente la loro penna al rapporto di forza dominante per giustificarlo, legittimarlo e glorificarlo, di modo che in luogo della ribellione delle masse di cui diceva Ortega e Gasset si verifichi quotidianamente, il caso di dirlo, l'adesione passiva delle masse all'ordine dominante che le vede dominate e subalterne, dominate materialmente e dominate sul piano simbolico e dunque dominate subalterne, per dirla ancora con Gramsci. Vale a tal proposito rammemorare ciò che disse Hegel a suo tempo, allorché ebbe a sottolineare a Iena che la lettura quotidiana del giornale dovrebbe essere la preghiera mattutina dell'uomo moderno, la preghiera realistica mattutina. Orbene oggi diventa una preghiera irrealistica con la quale osanniamo, quasi fosse una nuova divinità, l'economia feticizzata e fanatica che gli economisti come nuovi teologi della disuguaglianza e i giornalisti come pennivendoli alla mercè del rapporto di forza dominante quotidianamente santificano. Sicché oggi una critica del giornalismo è necessaria per una riappropriazione anzitutto culturale, mediante il fatto culturale, come lo chiamava Gramsci, del rapporto di forza, giacché è solo nell'acquisizione della coscienza culturale delle superstrutture che diventa possibile una lotta di classe dal basso, dal popolo nazionale e popolare, verso l'alto dell'aristocrazia finanziaria polide, sans frontières e cosmopolita. Grazie a tutti! Grazie a tutti!